Allora, diciamo che il cuore di questa breve cerimonia è la recità dell'Anne Shingyo. Anne Shingyo è il sutra che viene recitato in tutti i tempi zen ogni giorno e il cuore è chiamato che è il cuore dell'insegnamento buddista ed è comunque usato nella cerimonia in quanto è anche un potentissimo nata. Nel caso nostro, chiaramente, dedicaremo questa cerimonia per un buon anno del centro di lavoro e di pratica. Quindi chi vuole seguire, io qui ho un messaggio di dare, grazie. Sombra, chiaramente, è in giapponese, che poi non è in giapponese, ma è un signo in giapponese, nel senso che non è in giapponese moderno. Dietro comunque, per chi interessa, dopo, se vuole tenerselo, c'è la traduzione. Non fate finire. Noi adesso faremo, per voi state, per voi siete, faremo i PAI, i PAI sono le postazioni, tre postazioni di San, PAI, che sono l'inizio e la fine. Grazie. 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 Grazie.